The Witcher 3 debutta su PS5 e Xbox Series X ed S con la versione 4.0, e non si tratta di un banale aggiornamento next-gen. I maestosi panorami di Wild Hunt sono stati limati attraverso una corposa patch volta a trasformare l'esperienza su PlayStation 5, su Xbox Series X ed S ed anche su PC. Un grande upgrade gratuito pensato per rifare il look alla più celebre avventura di Geralt di Rivia, spremendo ogni circuito delle macchine al fine di avvicinarsi alle migliori versioni disponibili. La nostra vecchia recensione di The Witcher 3 Wild Hunt aveva inquadrato il capitolo finale della trilogia di CD Projekt come il miglior videogioco di ruolo per l'ottava generazione di console. La sorpresa, in questo senso, è che se avesse fatto il suo esordio assoluto nei primi anni di PlayStation 5 e delle Xbox Series, l'opera avrebbe rischiato di aggiudicarsi lo stesso primato, insediata probabilmente dal solo Elden Ring. Sono centinaia le ore di gioco messe a disposizione da CD Projekt Red, che danza agile fra il racconto della ricerca della giovane Cirilla e tonnellate di attività secondarie, dipingendo un quadro che scava senza sosta nei tratti più cupi dell'animo umano. Insomma, è un'esperienza che è vietato lasciarsi sfuggire, anche se solitamente si è distanti dalla classica tradizione degli RPG occidentali. La vasta mappa è teatro di una componente narrativa unica nel suo genere, fatta di totale libertà e di grandi ponti interrotti. Sta al giocatore decidere quale traccia inseguire, senza contare che, parlando con un semplice sconosciuto o consultando la bacheca di un villaggio, si corre il rischio concreto di perdersi per ore in storie parallele dalla forte carica emotiva. Il gameplay incarna l'anima del classico videogioco d'azione, mettendo in scena vortici difendenti ed esplosivi segni magici per annientare mostri terrificanti e umani spesso più malvagi di qualsiasi belva. Fra abilità passive, decotti, armature uniche e lame d'argento, ciascun giocatore può cucirsi addosso un sistema di combattimento su misura, anche se tale segmento è emerso spesso e volentieri come il più criticato dagli appassionati. Non bisogna poi dimenticare Heart of Stone e Blood and Wine, ovvero le due grandi espansioni che hanno segnato il periodo post-lancio, spesso considerate fra le migliori iniezioni di contenuti aggiuntivi in circolazione. Il primo intervento chirurgico della patch ha come scopo quello di migliorare l'esperienza complessiva. Si parte dal cross-save. Collegando il proprio account GOG.com si possono trasferire gli ultimi dati salvati in cloud tra una piattaforma e l'altra. Basta scansionare un QR code richiamabile direttamente nel menu dei salvataggi. Nell'orbita del PC ricordatevi però che la patch 4.0 renderà incompatibili tutte le mod antecedenti, quindi bisognerà assicurarsi che siano state aggiornate alla versione corrente prima di installarle nuovamente. Salta all'occhio anche la nuova impostazione predefinita legata alla telecamera, che sceglie di posizionarla decisamente più vicino alla spalla di Geralt. Non si tratta di un'imposizione, si può attivare e disattivare nelle opzioni a seconda delle diverse fasi di gioco, ma conferisce un'aura di imponenza alla scenografia medievale e cambia l'approccio alle fasi di combattimento. Se la fitta interfaccia dell'originale rischiava troppo spesso di mettere a repentaglio l'immersione, ora è possibile selezionare un'opzione che consente di ridurre ai minimi termini l'HUD, facendolo scomparire interamente nelle fasi di esplorazione, al fine di rendere ancora più cinematografiche le scorribande di Geralt. Se ciò non bastasse, la modalità fotografica permette di immortalare le gesta del lupo bianco. Si tratta di una funzionalità quasi stilizzata, che permette sì di giocare con i classici slider dei programmi di fotoritocco, senza però aggiungere nient'altro alla messa in scena, come ad esempio espressioni facciali o pose particolari. Restando vicini alla superficie, CD Projekt Red ha voluto svecchiare la mappa del mondo, sfoltendo il numero di icone visibili per favorire la lettura della cartina. Secondo la medesima filosofia, non è più necessario sfruttare menu aggiuntivi per raccogliere le erbe e gli ingredienti per le pozioni, che vengono direttamente trasferiti nella borsa. È finalmente consentito assegnare lo scatto alla pressione dell'analogico sinistro, mentre si può contare su tre diversi livelli di intensità per la camminata di Geralt. Le rifiniture di questo genere sono però davvero troppe per raccontarle tutte. È quando si varcano i confini del gameplay che l'aggiornamento inizia a mostrare i muscoli, facendo sfoggio di dettagli che svecchiano l'esperienza classica. Una delle modifiche più impattanti risiede nella possibilità di utilizzare qualsiasi segno magico senza dover aprire il menu radiale. Se questa potrebbe sembrare una cosa da poco, la realtà è che conferisce un ritmo inedito ai combattimenti, trasformandoli in un waltzer di fuoco e acciaio nel quale sbizzarrirsi senza soluzione di continuità. Il medesimo discorso vale per gli strumenti, troppo spesso sottovalutati dagli aspiranti witcher che tendevano ad ignorarli a causa della costante necessità di accedere all'inventario per equipaggiarli. Ora, grazie a un selettore radiale, basta un attimo per impugnare una bomba e far saltare in aria i nemici. Tra gli inserti più sottovalutati brilla la riduzione del danno da caduta. In passato, l'imbattibile Geralt di Rivia si spezzava le ginocchia con eccessiva facilità. E la nuova soluzione cambia completamente l'approccio al level design. Se nel 2015 bisognava cavalcare a lungo per calarsi dalla sommità di una collina, ora si può scendere tranquillamente senza temere di perdere ore di giocato. Merita una menzione l'attenzione dedicata al comportamento della cavalla Rutilia, che è leggermente più reattiva, specialmente negli spazi angusti. Dedicata ai giocatori più esigenti, invece, è la nuova interpretazione dello scaling dei nemici, che mira a rendere qualsiasi scontro impegnativo senza trasformare avversari minori in potenze inarrestabili. È importante sottolineare che se alcuni di questi cambiamenti vedranno luce anche su piattaforme old-gen, la maggior parte sarà riservata ai beneficiari dell'intera patch, ovvero i giocatori PC, PS5 e Xbox Series X ed S. Ci sono frangenti in cui la versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt si presenta come un titolo piuttosto diverso dall'originale, pensato appositamente per le macchine moderne. Le uniche ombre risiedono in piccole sbavature, come i dialoghi messi in scena sempre in campo contro campo, oppure le costanti transizioni a nero che caratterizzano l'inizio delle conversazioni e delle sequenze animate in engine. Prima ancora di analizzare le diverse modalità grafiche, vale la pena soffermarsi sugli interventi diretti che hanno toccato il segmento tecnico. I modelli dei personaggi, ad esempio, sono stati migliorati, spesso eliminando le compenetrazioni con determinati set di armatura si possono notare anche ad occhio nudo delle rifiniture nei corpi e nei volti, senza contare che il medesimo trattamento è stato riservato anche all'estetica di alcuni mostri. Le ombre vengono ora renderizzate in alta risoluzione anche al di fuori delle scene di intermezzo, gli ambienti sono più ricchi e anche il meteo è passato attraverso una fase di potenziamento. La rifinitura più evidente, quella che si nota per prima avviando il titolo, è quella che riguarda la vegetazione, che non si presenta solo più nitida e densa nel fogliame, ma decisamente più reattiva agli influssi del vento. Gli sviluppatori si sono soffermati sugli effetti grafici della scenografia, migliorando sia quelli che gestiscono il comportamento delle piante, sia quelli che impattano l'acqua. I caricamenti, infine, risultano sensibilmente più brevi sui nuovi hardware. PS5 e Xbox Series X possono ora contare su due modalità grafiche, ovvero prestazioni e ray tracing. La novità in questo senso è che entrambe sfruttano la tecnologia AMD Fidelity FX per produrre un risultato visivo in 4K a prescindere dal framerate, grazie all'upscaling, puntando ai 60fps in prestazioni e 30fps in ray tracing. La differenza ovviamente si cela nella caratteristica che dà il nome alla seconda modalità. Le versioni console possono infatti contare su illuminazione globale e occlusione ambientale ray traced. Ancora diversa è la situazione del ray tracing su PC, unica piattaforma che offre anche ombre e riflessi. Questa è una differenza che si nota soprattutto nei confronti dei riflessi sulle superfici acquatiche, che seppur visivamente eccellenti grazie ai nuovi shader, su console sono sporcati da un leggero effetto deformante. Vista la natura open world di The Witcher 3, lo sfruttamento del ray tracing su console si lascia apprezzare fino in fondo in rare situazioni, ad esempio all'ombra dei focolari. Le varianti PS5 e Series X sono pressoché identiche, non fosse che all'ultima patch tutti gli hardware Microsoft soffrono maggiormente gli effetti volumetrici. Discorso diverso per Xbox Series S, che non riesce ad accogliere alcuna forma di ray tracing ed è per sua stessa natura limitata nella risoluzione. L'unica opzione sensata, nel suo caso, è la modalità prestazioni. Dal canto nostro abbiamo preferito godere della modalità prestazioni e dei 60 fps, l'unica pecca risiede in qualche lieve calo di frame nelle aree più popolate della mappa. Da non sottovalutare è il fatto di poter cambiare modalità grafica in qualsiasi momento, facendo tutti i test del caso per selezionare la preferita direttamente in gioco. L'ultima nota riguarda lo sfruttamento delle caratteristiche del DualSense di PS5, uno fra i migliori incontrati in epoca recente. Il feedback aptico funziona a dovere, trasmettendo le galoppate di rutilia e gli effetti di ciascun segno magico. È intelligente anche l'uso dei grilletti adattivi che avvisano il giocatore ogni volta che non è possibile lanciare magie. Peccato solo non poter assegnare i fendenti ai pulsanti dorsali. Gran parte del merito dietro il risultato raggiunto dalla patch Next Gen risiede nella scelta di integrare le mod più amate direttamente nel codice ufficiale, lavorando fianco a fianco con gli autori più affermati. Anche se gli sviluppatori hanno messo mano in prima persona ad alcuni modelli dei mostri, alle armature e alle stesse forme dei protagonisti, l'apporto della comunità di appassionati ha giocato un ruolo che sotto diversi profili è ancora più determinante. La The Witcher 3 HD Reworked Project di Hulk Hogan, ad esempio, introduce migliaia di texture ricreate in alta definizione, aumentando il livello di dettaglio. Non meno importante è la HD Monster Reworked di Denroth, modder che ha scelto di migliorare manualmente ogni singolo mostro. Merita una menzione anche la FCR3 di un ex sviluppatore di CD Projekt Red, un lavoro immenso che lima dozzine di meccaniche, dal comportamento degli NPC fino al funzionamento di determinate statistiche, con il fine ultimo di favorire l'immersione ad ogni costo. CD Projekt Red ha selezionato esclusivamente mod che mirassero a migliorare l'esperienza mantenendo intatta la sua impronta artistica, integrando l'offerta con piccoli aggiustamenti contenutistici e i più aggiornati pacchetti di correzione bug. Ha deciso di fare anche qualche piccola aggiunta nello stile della patch 1.6 di Cyberpunk 2077, ovvero pescando direttamente dallo scatolone della serie Netflix. Alcune di queste sono disponibili fin dal menu principale, come lo stile alternativo per il personaggio di Dandelion e il bestiario dei soldati di Nilfgaard, mentre il discorso cambia per l'equipaggiamento indossato da Henry Cavill. L'unico guizzo narrativo inedito è infatti una piccola missione a Velen. Dura circa 30 minuti, mette in scena due diversi boss e finali multipli, ed è una gradita sorpresa per infiocchettare questo mare di migliorie. La ricompensa è proprio lo schema necessario per costruire l'armatura indossata dalla controparte televisiva di Geralt, che non è un semplice vezzo estetico. Esiste una variante da maestro che rivaleggia con i set dedicati alle diverse scuole da Witcher e il suo aspetto rispecchia tutte le modifiche apportate nella seconda stagione della serie. È difficile trattare una simile iniezione di contenuti come una semplice patch dedicata alla next gen. Al centro dell'offerta rimarrà pure l'adeguamento grafico alla nuova generazione di console, ma questa versione si presenta come un'esperienza che cammina in equilibrio sul filo della novità. Non si limita infatti ad alzare il sipario sulla migliore edizione possibile di The Witcher 3, mirando invece a correggere gli inciampi del passato e a potenziare alcune meccaniche di gameplay. I risultati raggiunti sul fronte grafico non risulteranno certo accecanti per i giocatori PC, ma su console la differenza c'è e si vede. Anche se è un peccato non poter contare sui 60 fps senza dover sacrificare il ray tracing. Nulla da dire sull'esperienza al cuore di Wild Hunt che a distanza di quasi 8 anni dal lancio originale riesce ancora a impressionare grazie ad una componente narrativa senza età e ad un mondo tanto ricco da celare costantemente qualche piccolo segreto. Sì, il lungo viaggio dello strigo è ora nella sua forma migliore, sarà sufficiente per convincere anche chi già l'ha spolpato per centinaia di ore a gettarsi di nuovo all'inseguimento di Ciri? Per scoprirlo esiste un modo semplicissimo, scaricate l'aggiornamento gratuito e provate a seguire, stavolta più da vicino, Geralt di Rivia fra i sentieri di Bianco Frutteto. E voi cosa ne pensate di questo aggiornamento? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Ecco ora alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!